Ho comprato una giacca in saldo, tornata a casa, mi sono accorto che era difettata, posso chiedere la sostituzione? La risposta è un po' complessa, perché nel caso di sconti e promozioni, l'acquirente ovviamente vede il capo interessante per il prezzo con lo sconto eccezionale, ma deve visionarlo lo stesso il capo, non è che il capo viene portato via così com'è, lo può anche provare a differenza di quanto dicono molti venditori, tuttavia se arriva a casa, lo riprova e trova un difetto grave, ha il diritto alla restituzione, certamente sì. Grazie a tutti, grazie a tutti.